Ciao ragazzi, finalmente ci sono riuscito a fermarlo a visto lui ci sono riuscito a fare veloce, a usare le veloce taglia, a fare veloce, in fretta, l'ho fatto fare l'attenzione Ok, ora, ora colpisco, dai Sì, sì, tutto rotto Scusa, ti sto aiutando, ho creato i bambini e non riesco a capire Sto arrivando Non riesco a capire, non riesco a capire Non riesco a capire Non riesco a capire, non riesco a capire, non riesco a capire Non riesco a capire, non riesco a capire Non riesco a capire, 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 non riesco a capire Grazie a tutti. 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 Sono felice che sia un futuro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ehi, vai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.